Ma che tappa è venuta fuori e com'è bello il ciclismo, com'è imprevedibile perché la fuga oggi in una certa maniera arriva perché viene risucchiata proprio sul traguardo dal gruppo eccetto Damiano Cima che sembrava il più moribondo probabilmente tra i fuggitivi e invece scatta e riesce a contenere in qualche maniera il rientro da dietro dalla volata lunga di Pascal Ackerman e a vincere per la seconda volta in carriera ma la prima vittoria pesante vince, vince incredibilmente Damiano Cima Questa tappa numero 18 davvero incredibile, un finale incredibile con il gruppo che stava arrivando a fortissime velocità da dietro con i fuggitivi invece con maestri Nico Dance e proprio Damiano Cima Che erano impegnati nella loro fuga e il gruppo stava arrivando da dietro, era un po' in ritardo, riesce a guadagnare tanti tanti secondi negli ultimi chilometri Ma alla fine niente da fare per Pascal Ackerman che probabilmente comunque si prende la maglia ciclamino vista l'ottava piazza di Arnaud Demar Ma che volata ragazzi, che volata, ma che volata, che volata e come è finita veramente Una tappa imprevedibile, a dimostrazione proprio che nel ciclismo non c'è nulla di scontato ma nella terza settimana le fatiche si cominciano a sentire e davvero non c'è niente di scontato Complimenti a questo ragazzo della Nippo Vini Fantini che per ora al Giro d'Italia non aveva fatto un granché ma rialza nettamente il Giro d'Italia della formazione Wild Card in questo giro Grazie a questo successo di prestigio in questa tappa, davvero incredibile, davvero che bella tappa anche per il vento magari resa più spettacolare Ma una tappa bellissima che ci introduce adesso alle ultime tre frazioni di questo Giro d'Italia Mamma mia, che emozioni e che imprevedibilità veramente fino in fondo Se lo merita, se lo merita perché i tre davanti comunque hanno fatto una fuga davvero stratosferica Stratosferica, sin dalla mattina sono riusciti a venire via e per poco non arrivavano tutti e tre E lui invece ce l'ha fatta grazie alla tenacia, grazie alla tenacia, sembrava Nicodense quello a pedalare meglio Poi si è voltato, proprio probabilmente quando si è voltato ha perso un po' il tempo lì in volata E' partito tardi e il gruppo è andato a risucchiarle Invece gli ha dato proprio la menata decisa, quella che doveva arrivare per Damiano Cima per andare a vincere questa tappa Domani si arriva stamattina di Tastrozza Dopodomani c'è un super tappone, dolo mitico da feltre al Monte Avena, al Croce d'Aone E lì veramente sarà un tappone di montagna dove inevitabilmente si andrà a decidere questo Giro d'Italia E infine domenica chiaramente la chiusura all'Arena di Verona con la cronometra individuale Fatemi sapere voi invece nei commenti che cosa ne pensate Se ci sono voi anche un mi piace al video condividete questo video e iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto, mamma mia che tappa, mamma mia che tappa E ridecina che ce n'è al prossimo video